Siamo qui con Patrizia Testa dopo la bellissima vittoria contro il Vicenza. Patrizia, che emozioni hai provato oggi? Un commento sulla gara? Una gara emozionante come finalmente ha visto un po' di gente di busto. Sicuramente gli ospiti erano tantissimi, ma oggi non siamo stati da meno. E quindi questo è tutto merito del lavoro che sta facendo il mio direttore con questi ragazzi meravigliosi. Quindi sono molto contenta sia per il risultato sia anche per questo ambiente che si è creato intorno alla Propatria. Perché la mia vita mi fa dire che la serietà alla fine è giusto che debba pagare con la riconoscenza a quello che si sta facendo. Quindi grazie a tutti i miei ragazzi. Sono contenta che tanti vengono dal nostro settore giovanile e che Ferri Colgolla abbia messo questa ciliegina anche all'essere il tigrotto del mese. Grazie Patrizia. Grazie a voi.